Carissimi amici, carissime amiche, viviamo una seconda domenica segnata dalle limitazioni, dalle preoccupazioni derivanti dal diffondersi anche nella nostra regione di questa epidemia virale. Il nostro pensiero è prima di tutto alle persone ammalate, per i loro familiari, per i medici, il personale sanitario e le pubbliche autorità che operano quotidianamente per tutelare la salute pubblica e cercare di arginare, contenere questo problema. Un pensiero vogliamo rivolgere anche agli imprenditori, ai lavoratori, agli insegnanti e alle famiglie che in questa situazione devono affrontare non pochi disagi di natura economica e organizzativa. Voglio anche in occasione della festa della donna, qui dietro c'è anche una pianta di mimose, voglio rivolgere un augurio a tutte le donne delle nostre comunità che in tanti contesti e anche oggi sono chiamate ad affrontare le situazioni più difficili senza perdersi d'animo, con fortezza e generosità come hanno sempre dimostrato in tanti momenti della vita pubblica. Come sapete dal lunedì scorso in tutte le diocesi del Veneto valgono alcune norme prudenziali che limitano anche in maniera abbastanza forte la vita delle nostre comunità cristiane. Mi sono trovato insieme a tutti i vescovi del Veneto e con una certa sofferenza abbiamo ritenuto di dover rispondere prontamente, con indicazioni chiare e condivise, alla ricezione di quanto previsto dai decreti del governo che si succedono, ce ne saranno anche altri. Queste limitazioni probabilmente ci accompagneranno ancora nei prossimi giorni e ci costringeranno a rivedere il calendario delle celebrazioni e delle attività, delle diocesi, delle parrocchie, delle comunità, almeno fino alla celebrazione della Pasqua, almeno così sembra. Ma in questo momento desidero rivolgermi soprattutto ai ragazzi che si stanno preparando alla prima confessione, alla prima comunione, alla cresima, insieme alle loro famiglie. Io vi invito a raccogliervi ogni giorno in un momento particolare per una preghiera particolare e magari cercheremo anche come diocesi di darvi un sussidio perché possiate cogliere insieme. Questo diventa anche un aspetto positivo di preghiera all'interno della famiglia che noi, anche il Concilio, definisce piccola chiesa. Quindi chiedo a tutti di affrontare questi disagi con serenità e con spirito di collaborazione. Voglio ringraziare i preti della nostra diocesi che con grande senso di responsabilità stanno affrontando questa situazione, continuando in modi diversi ad essere vicini alla gente, sia attraverso gli strumenti della comunicazione, sia anche a livello personale. Sicuramente tutti nella preghiera. Sono consapevole che soprattutto l'impossibilità di celebrare l'Eucarestia è per molti una grande sofferenza, l'ho percepita, tanti anche mi scrivono. Possiamo tuttavia fare anche di questa rinuncia un'occasione di crescita spirituale, un tempo in cui coltivare la preghiera personale e familiare, in cui dedicare tempo all'ascolto della parola di Dio, ci sono stati dati anche degli strumenti, dedicare tempo alla meditazione, al silenzio, a una maggior cura delle relazioni familiari e fraterne. È un tempo che non avremmo desiderato vivere certamente, ma che ci può offrire anche la possibilità di scoprire il valore della gratuità, della semplicità della vita familiare. Con Gesù oggi noi passiamo dal deserto delle tentazioni che abbiamo letto e meditato domenica scorsa al monte della trasfigurazione. Proprio questa trasfigurazione che il Signore appare nella sua gloria ai tre apostoli che sono con Lui, ci fa sperare che anche questo momento di sofferenza possa essere trasformato in un momento di serenità, di vita ordinaria, di vita comunitaria, di vita pubblica per tutti. Concludo con un saluto esprimendovi tutta la mia vicinanza che ogni giorno io percepisco e nella preghiera cerco di essere vicino a voi anche con quelle possibilità che mi sono state offerte della celebrazione della messa durante la settimana alle 7 attraverso Telechiara a Monteberico e alla domenica alle 9 attraverso TVA e Radio Oreb. A tutti il mio più affettuoso e cordiale saluto.